Il Grandangolo ormai è un evento che ha dieci anni di vita, è un evento consolidato, è costruito su tutto l'arco della nefrologia, cioè mira a dare aggiornamenti in tutte le aree coperta dalla nefrologia. Questo tipo di eventi era nato circa 20 anni fa nei maggiori congressi di nefrologia, l'American Society, l'European Society, però in genere si focalizzava soltanto in una piccola area. L'originalità del Grandangolo è quella di avere allargato lo spettro e averlo esteso a tutta la nefrologia. Probabilmente il Grandangolo è stato il primo evento educazionale che ha avuto questa costruzione. Ora in Europa questo tipo di eventi educazionali a vasto raggio si stanno moltiplicando. Io proprio lo scorso ottobre ho partecipato a un evento educazionale organizzato da colleghi tedeschi e tenutosi a Vienna e devo dire che il gradimento di quell'evento è stato pari ma non superiore a quello del Grandangolo. Quindi la mia impressione è che il Grandangolo è stato innovazione e che almeno per il nostro Paese rimane innovazione.